ciao bambini sento un peso su di me ma cos'è? è nonno arturo ma sei tu mamma mia se c'è nonno arturo senti un peso di sicuro sì ma è proprio un peso cosa fai lì sopra? ti faccio il gufo no il gufo era quello della storia dell'altra volta ma io sempre lo stesso sono sempre lo stesso ti faccio un po' il gufo dai non gufarmi sì no non ti gufo io sono il gufo il gufo porta fortuna è un animale molto intelligente e molto saggio questo è vero infatti in tutte le storie il gufo è saggio esatto un po' così un po' noioso però è saggio e ma ci vuole anche il saggio nelle storie come anche nella vita di solito sono le persone più anziane quelle più sagge esatto infatti quando vado al ristorante adesso sono chiusi ma quando andavo al ristorante c'era sempre un po' di cose buone e io le assaggio qui capito? no non è quello il saggio nonno arturo è quello che sa tante cose perché vive da tanti anni sono io 103 anni e mezzo mamma mia e mezzo eh dobbiamo farti poi la festa del compleanno assolutamente 104 candeline ma stai scherzando 104 candeline hai ma ora che le hai soffiate tutte ma io porto l'aspirapolvere attacco il tubo dall'altro lato e via non vale non vale dai canta qualcosa che ti passa hai visto l'ho trovata in soffitta però non so se è cordata e poi non so se mi ricordo bene come si è scordata ma se è scordata non te lo ricordi perché ti sei scordata che bella proviamo? si dai 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 calmati eh se non viene bene non è colpa mia va bene? sei pronto? si bene allora io nascondo le uova sono un coriglio dudu tu le cerchi nel prato ma non sai dove sono cerca 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 tu le hai nuovate di già presto portale qua quando cento saranno insieme noi danzeremo balla 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 ball ridono 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 anche per come suono io vero devo andare a scuola no tu sei bravissima ma no non sono più capace no sei bravissima è la chitarra che è scordata ma sai perché non Arturo perché tanti tanti anni che non la suono l'ho lasciata così soffitta ecco bene era una chitarra in incognito lei non sapeva di essere suonata da te ma sai se l'avesse saputo avrebbe fatto una melodia meravigliosa come sei meravigliosa tu oh ma grazie mi fai sempre un sacco di complimenti e vedrai poi cosa ti chiedo oh no 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 non farmi richieste troppo onerose no 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 perché questo chimico chissà cosa mi fa comprare allora cosa dici nonno Arturo posso ricominciare a suonare da oggi in avanti secondo me sì sì quindi faremo tante canzoni con i bambini se fai la brava solo se faccio la brava sì sì e perché se no no se no io dormo ma dai dormi già ma abbiamo appena iniziato nonno Arturo nonno Arturo ma non è possibile è già dorme questo io ho appena iniziato a suonare io continuo a suonare ciao bambini io mi diverto suonando eh io nascondo le uova su un coniglio dudù tu le cerchi nel prato ma non fai dovesso cerca 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 tu cerca 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 tu ciao bambini ciao ciao ciao